vado salto che ha fatto un beat su fortnite Ale? è morto Ale devo atterrare in quella zona nera cioè devo atterrare si si e me lo dai in automatico no ti dà tipo un ballettino vabbè showtime venue si si penso di si non te lo dovrebbe dire adesso e enjoy the show showtime challenges one complete ok magari lo equipaggio se avete 10 secondi ma ce l'hai già in logica cioè se lo equipaggio da solo se non c'è balletti ma io c'avevo un balletto vabbè ce ne stanno 8 nella rotella ma io avevo exit ok no B pronto vai fa vedere il balletto fai B B non va com'è ah che c'è testo c'ho vai B dove? sempre là voglio andare poi devo farlo tre volte eh no non devi farlo tre volte uno qua cioè uno qua uno qua e uno qua ah magari io vado là allora quando ci fai te ne vai qua si sono qui questo è perché Mi hai fatto? Eh c'è un'altra persona Sto ancora atterrando Va beh fai il balletto E basta Fatto Fatto Ok Comunque quality streamer Ho due spettatori Fissi Ok mi ha È ballato? Sì È l'importante La logica è finita la sfida E c'è il piccone di malo È un po' malo Davvero? Per così poco Sì This is for 90 grammi Da una modalità ignorante Però mi voglio Eh però mi voglio cambiare l'ombrello perché C'è quello della vettore reale se ne hai fatto non ce l'hai? Ho quello arcobaleno ma Quello arcobaleno ma Equalizer Ma fa troppo casino Quello l'ombrellino di carta tipo Non ce l'hai te? No prendo quello col drago cinese mi piace di più Eh quello l'ombrellino di carta Sì Tipo chi arriva a 100 kill Che vuol dire? Ho due squadre alla 50 La prima squadra che arriva a 100 kill Vince Nooo Che figata Ho il fucile termico Quello di stanza Nooo Se spacchi fa la musichetta Se spacchi senti la musichetta Quella che fa Ma adesso puoi lasciare il glider Eh? Puoi lasciare il glider In che senso? Che hai 5 6 oggetti Invece che 5 E l'ultimo è un glider Eh sì Lo puoi rilasciare Prima non potevi Davvero? Non ho d'accordo Credo Ah i glider So perché Cioè non ci stanno i glider Redeployable Però questi sono Cioè con questi puoi redeployarlo Fa la musichetta comunque lei Eh sì Quando hiti Fa tipo una beat trap Eh Vuoi una squadina? No no so So già full Ma sono full anch'io So un nemico? Sì Dove? Dove? Dove palazzo Sì Ok ti vedo C'è un lancio Dove? Sto trollando uno È un compagno Riaccomi Ah Ah Blue vieni qua Arrivo No Non puoi schiaffare Che state facendo? Mi ha rubato le munizioni a questo A quanto siete? Boh è una modalità che non ho capito Poverino basta Ho preso il piccone di mash Sì è bella Ma la musichetta quella all'asso Mentre lo so spacchi Nooo Pam 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 Io voglio vedere il corcello Eh se devo andare in safe Titt Ah ma tanto è tra tre minuti Oh c'è un kodu qua È mio È mio È mio Andrà A me che ci tengo a particolare Vai andiamo a cercare la gente da killare C'è ancora una cassa qua Ah Donna Ma andiamo a cercare la giacca Meglio la submachine o l'avvassault rifle? Ah, aspetta, fammeli vedere Nel dubbio, io sto con ciccio Ah, quella è la mitraglietta Quella è la sub, l'assault E il refile e il coso, la k Prendo quello blu va Cioè, tipo, quello attento che tipo c'è, smino un botto Tanto voglio cecchinare sta partita Sì, se fai un progetto Alla volta dovresti potermi amediare Ho il cecchino termico viola Ne sto sui monti e cecchino Ehi, ciù Salve Madonna, mi sta per prendere il raffreddore A forza di andare sulla neve Su Fortnite Non vedo nessuno Bene C'è un'air drop plus, lo vuoi? Andiamo all'air drop, vai Fai un ponte elevato io L'avete vinta una? Quasi, praticamente Cioè Allora, ma in 16 sono salito su un kart Mi sono droppato dal kart e sono morto Ah, qua ci sta quello leggendario Qua ci sta il termico leggendario Quello che c'è è solo leggendario Davvero? Mhm Bene Preto Saliamo sopra salini Sto bullizzando quelli sull'aereo Ah, non riesco Ah, sai sopra? Sì, stavo Vedi, c'è uno là Lo vedo col termico Fittato Fai cadere È un ali No, no, vicino c'è Però non c'era il nome Mi sentite? Raga Sì, sì, ti sento Eh, no, perché continuo Madonna, quanto lago Mi si era frizzato tutto E non mi sentivate più Non capisco chi è con noi Chi non è con noi C'è 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 una stanghietta bianca Su chi è con noi E una Niente su chi è contro Beh, grazie Il Ciroldro Mi ha salvato Beh, stavano arrivare Giusto per Chillato Con il mio aiuto Tutti così scazzi In sta modalità Ma è in quella 50 v 50? Mh Ma allora esci dai Dai esci Che palle Entriendo benissimo Capito E' pure innabile Vincono quelle partite Sto curando Ah Blushiamo Arriviamo Andiamo con Ale Bravo Sì Ma perché? Dura ancora tanto Sì Dura tantissimo 100 kill Vai, abbandona la partita Ok No Boh, se vuoi minimo qua Cos'è, le contrattazioni per dove andare? Sì C'è uno Pili C'è una skin non P Ma è un hub Allora ci andiamo Ma io son po' pa? No, scherzavo Devo scappar via Devo scappar via Devo scappar via Dietro di te Sei dietro Ok Ok Detto zitti Devi stare a Firenze Però sono Non sento Dov'è Ma è morto? LOL Cioè è morto qui dentro da solo? Non ero da solo Erano i due almeno Morto? LOL Eh non va niente Mi faccio il chucciug C'è delle bende se vuole Un traietta qua Lasciami l'aereo Lasciami l'aereo Lasciami l'aereo Chi rubo il glider LOL Andiamo 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 Ninja venite qua Che rifiutiamo Poi c'è un altro Cosa? Servo una mano? Ho arato Ninja Cioè io ho arato ninja ragazzi Si chiamava ninja quello che ho Si era ninja con 10 spazi Oh Creep baited Blu 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 Ho ucciso ninja No siamo ninja Devi farlo Si devi farlo Posso vedere la chat Ho ucciso ninja Vabbè no Eccolo No no fallo 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 Era proprio ninja Era ninja Stai zitto Era ninja Vedi guarda gli stream sniper Che arrivano a ammazzarci Vedi sapeva anche ninja era qui Fermo dai Fermo Era uno stream sniper Sapeva che era ninja vedi Ti stai guardando Vabbè Sve ne so Nenche è arrivato tutto convinto Era uno stream sniper Era ninja vero basta Certo Vabbè vedi che adesso è live No però aveva un botto di spazi dopo il nome Tu ma aveva fatto The fuck you say you little shit Kiss your mouth È troppo ridere Andiamo a pigliare quella cazza va No andiamo a ripetare veloce che arriva la 6 Vieni qua vieni qua vieni qua Lui prendi i staffoni via Andiamo qua no Andiamo a prendere il rister là in cima Vabbè io mi faccio il medico No non ci credo Sto arrivando tipo Non so dove sei Vabbè io arrivo Devi prendere funivia sul ping Prendi quella Dov'è il ping? È l'unica funivia che c'è lì Guarda quella lì Vai dritto e prendi Questa? Sì Ok Puoi prendere altre e vieni qua Mi dà anche una challenge tra l'altro Ecco vedi ringrazio Ecco stai qua che adesso riftiamo C'è qua sotto il rift Ma hanno reso il gioco più fluido Mi sbaglio io Cioè mi sarà molto più Forza Hai colpi di pompa Che ne ho quattro Non c'è di no No Venite venite qua Venite qua Qua Tale Cosa? Ah vabbè Tutta sta fatica per niente Vai Questa fatica Ho piazzato una scala Eh io invece ho fatto la pedana Bella È verso di qua Da nord da noi Pinna pinna bravo No vittoria reale che ha ucciso ninja Fare casa? Sì eh Certo Questo è il titolo che è beggio Ci sta gente ci sta gente No dove? Nel campo di grano Ah sì minchia Bella È uno solo Vai 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 distrailo Distrailo È bianco praticamente Spero che non c'è del tablano io Era da solo? No no È ancora là No è morto L'ho preso a picconate Minchia aveva tutto Oh bellissimo Era un bambino ninja Era un bambino ninja Sì aveva anche il barret C'è il figo rumore che fa il piccone Non lo aspettavo mai Eh puoi staccare gli shieldini Vabbè è uno solo Quasi quasi piglio il pompo No è lasciato Ah ma mi conta le doppie munizioni In realtà ho bisogno delle altre L'ho capitato Allo dopo Senta no qua Altri shieldini viene a prendere No no Non so C'è già uno Vabbè Mi serve delle bende Quest'anno C'è una mela qua se volete Qua 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 Guarda Io ho il 3 shieldini Tenta 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 Provarvi alla stream Così vedi quello che ti dicevo Ok C'è Voglio vedere quanto ping Vediamo Tipo Inizia trasmissione Switch No Oh Cubi Ma in serio Form Form Tipo Vediamo Inizia Form Form Tenta Vai Vai live Ok Non riuscita Perché non riuscita Perché sei scarto Non mi vogliono lasciare streamare Schifosi Non mi vogliono lasciare streamare Niente No C'è un Pupazzo di neve Lì davanti No Ok Me lo ricordati mai fidarsi dei pupazzi di neve Sono prendo le cose male perché mi piace troppo il martello di mash Allora non voglio spaccare le cose subito Andiamo in safe Andiamo in safe Andiamo in safe Aspetta che guardo perché Se la porre Twitch Fai un video mega epico Fai il video Divento da Nabbo a pro su Fortnite No Comunque spreca solo 10 di materiale quando ti piazza la doppia Il doppio coso Sì me l'avevi detto Aprite la porta Eh ma non capisco perché non mi lascia streamare Dai io io fare Le big isole Qualche cose Ah magari perché disattivo questo Disattiva Inizia Oh sì Ho abbiato Aspetta guarda sul canale Vedete guarda il pin come mi sale Minchia lago Aspetta adesso mi esplode Non si muore Eh Sì è buono stream Ma io posso streamare con 180 dp No Però in teoria non lagga Vai a vedere Lui adesso forse Si ferma ogni tanto Sono 150 dp Vieni la stacca 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 Stanno attracciando Io posso streamare Te no Non sei un quality streamer come me Infatti Gagagagagagagag Io sono un quality streamer la ciò 27 follower meriupi nei momenti buoni faccio 5 spettatori o a chi ha già fatto 5 con il surgesse per un secondo chi ma c'è gente a 208 ok dove sulla montagna no è sceso è sceso adesso ok 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 lo veda facciamo una piccola sorpresa dove 100 fermo aspetta spennati fermo 200 dietro con la casa è una jump attenta te jump anch'io quasi quasi ha uno di vita che uno di vita bravo fammi fare col falò quasi quasi mi fermo un attimo e mi faccio il falò adesso voleva fare il pro con noi sono full di tutto di come come armi cioè ti metti di munizione ma nove trappole te ne serve qualcuna mi serve un po' di munizioni quasi quasi di cosa tiene viene sento uno con la cosa qua sopra di noi tipo con la carretta questo oppure quello grazie prendi tutto veloce prendi prendi ho sentito uno con la carretta ma è fermo guarda c'è la carrucola buggata la lol ma è buggata guarda ok infatti sentivo uno hai ferro per casa io ho 500 me ne dai un po' che ti do tipo pietra è vero sento che si muove non si regna tieni prendi prendi ma dove sei buggata qua qua e pia te ha cosa andiamo andiamo in safe andiamo in safe si tirano le cuffie non sono più in nome raga se la possiamo vincermi qua se ci segui tatan vieni veloce andiamo in safe lui devi seguir me vieni con me io non faccio più kill ho già killato ninja basta e infatti metti ho killato ninja più e basta e basta dimmi che non sono persone queste ninja adesso mi salta fuori e prendo un jumpscare ninja vittoria reale tranqui sopra facciamo un mini fortino qua ma sono i nani che fan casino i nani si fatelo anche te un fortino ah devo fare il mio fortino no usa il mio usa il mio te lo lascio no te lo buildo eani sali qua sali facciamo lo skirmish vai c'è lo skirmish vai e ti tira piramide lui piazzati aspetta te la piazzo io lui stai lì sotto premi premi F premi F sulla piramide e guarda no qual è il tasto premi il tasto per editare e guarda vedi tasto per editare c'è scritto edit premilo ai basso e non fare niente alzati vai avanti con la visuale vedi puoi vedere tutto così fanno i proi visto si ma vedo le vostre piramide a destra e a sinistra che bloccano tutta la visuale sono solo dettagli cioè arrivando addietro comunque non vorrei dirlo cioè dovrebbero arrivarci da dietro la gente sono un po' a piramide io boh aspettiamo siamo tanti per questa safe dove? no sono io hai una jump titan io ho una torretta se volete la piazza no 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 oh investi nord est 35 col palloncino no è andato dietro nord est 35 non li vedo ah ok eccolo 28 è dietro la montagna stanno tu non li vedi eccolo sta salendo no eccolo eccolo ho visto boom oh oh what le cicciate era un hit lol ho capito 213 sono in track ma non è che sono là in alto no no dietro non possiamo averci nessuno sono safe questo qua è triggeratissimo andiamo 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 subito a safe andiamo a ruttare quello andiamo a ruttare quello perché siamo full di tutto e lo devi ruttare corre in safe corre in safe corre in safe corre in safe non scendi ne sto scendendo corri blu devi correre blu devi correre blu sto provando io sono scarso a ruttare sto rompendo e basta arrivo arrivo ti immagini la gente che si campera con i pupazzini neve adesso dovremmo stare sopra la montagna dove erano prima quelli posso piazzare la mia torretta ora così quasi piazzo la mia torretta stiamo in set tra l'altro scudato arrivo tra poco andiamo a pushar quel hai messo te la torretta si oh toglila blu toglila dove non lo so non ho capito verso ovest zitto zitto stiamo cene qua stiamo cene qua quello lì ha una posizione di vantaggio ok no li ho visti stiamo davanti a nord stanno a nord no blu non devi stare no vabbè cioè si è droppato siamo in safe siamo in safe calmo ma prendiamoci le ground eh c'è là quello là o pushy quello blu blu corri 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 perché devi andare da solo si è droppato quello capito che si è droppato non è detto che magari c'è mori da qualcuno adesso ti ammazzo io te te ricorda di build ar in ferro che non te la butta in giù con la deagle subito c'è qualcuno ok no stiamo finendo perfetto bialla biallegra un bellissimo no te te non hai in safe come non safe vabbè di poco vale 306 si 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 sto sparando si si sto sparando non sta restando il compagno spara spara è morto il compagno stiamo contro blu non sparare col pompa non sparare col pompa blu stai nascosto stai nascosto stai nascosto di cecchino non devi picker troppo colpi di cecchino arrivo eh vado sotto sono stupido anch'io lol dove sono sotto ora riesce a farmi un colpo sotto i piedi sono ancora là mi sa di si tu lo sa pochi materiali oddio mi ha fatto prendere un colpo blu la safe stanno ristando hanno ristato arrivo con una penda ah non posso sono da me sono da me sono da me uno è eliminato siamo in 5 faccio lo skirmish no 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 fan lo trappo lo trappo trappato 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 fermo no titan che lo stavo trampando era uscito infame uccido ninja e vinco la partita easy 11 kill solo squad easy basta io una e sai cosa faccio dopo me ne vado a cena è ucciso ninja è da canale vale 20 vittorie le royale si è ucciso ninja ciao 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 Grazie a tutti.